Serviva l'impresa, però non ce l'avete fatta. È stato complicato, per un po' ci avete creduto, però poi il gol dell'1-1 ha tagliato definitivamente le gambe. Sì, un peccato perché abbiamo fatto due ottime partite. Un peccato per aver giocato l'ultima mezz'ora in cui eravamo molto demoralizzati per un piccolo errore che abbiamo fatto di gioventù. L'abbiamo pagato caro, però sono contento sia dalla partita d'andata che dalla partita di ritorno. Non ho niente da recriminare, mi dispiace di non essere andato in finale perché credo che l'avremmo meritato, però facciamo l'imbocca al lupo a loro. Il gol arrivato sull'infortunio di Zappa ha influito sul posizionamento della difesa? Credo di sì, ha influito perché saremmo dovuti essere un pizzico più pronti a aspettare. Non era il momento di giocare una palla senza un nostro difensore. Invece abbiamo voluto continuare a giocare e siamo stati puniti. Sono contento dell'atteggiamento, della prestazione d'andata. Peccato per l'ultima mezz'ora perché la partita si era messa bene. Avremmo sicuramente finito cercando di ottenere questa vittoria, purtroppo non ci siamo riusciti. L'impatto dei nuovi come lo giudica? Molto positivo come l'impatto dei vecchi. Mi è piaciuta la squadra nell'insieme e quindi andiamo avanti. Grazie.